Buongiorno, sono Rosanna Scaturo della Biblioteca Comunale Leonardo Centonze di Castelvetrano. In questi giorni in cui non ci si può raggiungere fisicamente abbiamo cercato di arrivare nelle vostre case attraverso altre vie, proprio per raccontarvi dettagli della nostra biblioteca che non avete magari avuto modo di conoscere in precedenza. Il primo fondo librario della Biblioteca Leonardo Centonze nasce nel 1845 grazie alla volontà di alcuni studiosi del tempo, erano soprattutto ecclesiastici e uomini dotati di una ricca cultura umanistica e teologica come i fratelli Paolo e Vito Pappalardo, frate Vincenzo Bonsignore, il canonico Francesco La Croce. Questa piccola libreria, come viene inizialmente chiamata, apre ufficialmente il 9 agosto del 1848 e trova sede in una delle sale del liceo comunale dove insegnava lo stesso La Croce. Ma in seguito ai moti insurrezionali di quell'anno, i soci fondatori che erano uomini dotati di una salda fede patriottica sono costretti all'esilio, così quella piccola libreria cessa di funzionare per un periodo di tempo di circa 12 anni e riaprirà infatti al loro ritorno nel 1860. Nel frattempo nel 62 il liceo comunale chiude e i libri vengono trasferiti nel convento di Santa Teresa e sette anni più tardi nel 1869 vengono spostati ancora una volta nel convento di San Domenico dove rimarranno per circa 100 anni fino al 1968. Nel 1870 passa alle dipendenze del comune e approvato il suo primo regolamento consegue la denominazione di biblioteca comunale. Come avviene per tutte le biblioteche pubbliche anche la nostra in quegli anni si arricchisce delle librerie dei numerosi conventi locali soppressi nel 1866 in seguito alla promulgazione delle leggi eversive che sopprimevano enti ecclesiastici e attribuivano il loro patrimonio allo Stato e agli enti pubblici locali. Così la nostra libreria si arricchiva dei volumi provenienti dagli ormai ex conventi, quale quello di Santa Teresa, di San Francesco di Paola, San Domenico, dei Frati Cappuccini, di Convento di Itria e San Nicola. A queste si aggiunsero strada facendo le donazioni di pubblici e privati, gli acquisti di nuove pubblicazioni con i contributi fondi comunali e regionali e così dai 6.000 volumi del 1872 si arriva nel 1915 a circa 10.000 volumi. La nostra biblioteca, oltre a numerose 500, tra cui classici di rara edizione, oltre anche a diversi esemplari di aldine e giuntine, elenca una doviziosa raccolta di incunaboli. Noi ne possediamo 48, 10 edizioni sono uniche, 5 principi e 8 pregiatissime. Il primo bibliotecario, la cui nomina viene ufficializzata dall'amministrazione comunale nel 1815, è Leonardo Centonze, colui che darà il nome alla nostra biblioteca. Leonardo Centonze fu una persona speciale, una persona volenterosa e brillante, un uomo che da autodidatta seppe farsi una ricca e profonda cultura, ma soprattutto un uomo che ebbe una grande forza di volontà, un uomo che mise impegno in tutto quello che faceva, tanto da sfruttare un'esperienza fatta durante il viaggio in America, per portare una ventata di innovazione e una serie di trasformazioni all'interno della sua biblioteca, della sua amata biblioteca. Quali furono queste novità? Innanzitutto cercò di aprire la biblioteca il più possibile al pubblico, istituì il registro di ingresso dei volumi, introdusse il sistema di catalogazione a schede mobili, creò il dialogo delle cinquecentine degli incunaboli e curò minuziosamente l'aggiornamento costante dell'inventario topografico di tutti i libri posseduti, scrivendo addirittura in un opuscolo annotando tutti gli incunaboli presenti nella biblioteca che provenivano dalle librerie monastiche. Tra le opere pregevoli della nostra biblioteca, oltre agli incunaboli e ad altre opere di rara edizione del 600-700 fino ad arrivare al 1830 che segna il passaggio alla monografia moderna, ricordiamo due corali in pergamena con capilette raminiati del XVI secolo, una serie di manoscritti principalmente di studiosi locali, tra i quali uno dei più importanti, la platea della palmosa città di Castelvetrano del canonico Giovan Battista Noto del 1700, un'opera di notevole interesse per lo studio della nostra storia locale. Al Centonze succede l'avvocato De Blasi, a lui si deve l'introduzione del catalogo per soggetto e la creazione del registro dei prestiti. Subito dopo il terremoto nel 1968, poiché il convento aveva subito gravi danni, la biblioteca viene trasferita in dei locali poco idonei nella via Quintinosella e lì rimane per circa dieci anni fino al 1983 quando viene aperta al pubblico nell'attuale sede. Con il passare del tempo la nostra biblioteca ha continuato ad arricchirsi, sempre grazie agli acquisti effettuati con i fondi comunali, i contributi regionali, grazie alle copiose e soprattutto donazioni provenienti dai cittadini castelvetranesi come la donazione Gentile, Bonaggiuso, Ingoglia, Ferrigno, Amari e tante altre. Da lì ad oggi la nostra biblioteca è cresciuta tantissimo, oggi possiede 52 mila volumi circa, tra cui opuscoli, documenti, stampi, annate, di riviste e di periodici. Aderisce al sistema bibliotecario nazionale SBN attraverso la catalogazione partecipata, offre il servizio di prestito, oltre al prestito esterno, il servizio di prestito interbibliotecario, offre altri servizi come la lettura in sede, il servizio di riproduzione, consultazione, ricerche bibliografiche e periodicamente vengono organizzati eventi e attività culturali dedicate ad illustrare le raccolte possedute dalla nostra biblioteca. Il nostro direttore è il dottore Giuseppe Martino, così per raccontarvi quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, diciamo che nello scorso anno abbiamo aderito a Nati per Leggere e quest'anno la nostra amministrazione comunale ha partecipato al bando Castelvetrano Città che Legge su iniziativa della nostra biblioteca. Stiamo prendendo parte alla decima edizione del maggio dei libri con un evento web vista l'emergenza Covid-19, un evento che raccoglie 75 video realizzati con la collaborazione di studiosi, autori, editori locali, con la viva partecipazione dei licei di Castelvetrano e con la gentile collaborazione del professore Giuseppe Libero Bonanno che adesso vi illustrerà un pregettissimo testo presente nella nostra biblioteca, un'opera del 1910, il Selinonte di Joulot et Fougère, una delle più importanti opere pubblicate sulla nostra Selinonte. La biblioteca di Castelvetrano ha quasi 50.000 volumi, alcuni di essi sono particolarmente interessanti ed importanti, ci sono diverse cinquecentine, libri del 600, del 700, ovviamente dell'800, del secolo scorso e così via, che riguardano un po' tutti i campi del sapere. Questa biblioteca, intitolata oggi a Leonardo Centonze, che è stato bibliotecario per numerosi anni oltre ad essere un intellettuale e uno scrittore, ha avuto momenti di particolare importanza durante il primo novecento. Uno dei testi più importanti che sono posseduti dalla biblioteca è il Selinonte del 1910. Si tratta di un'opera in francese, pubblicata allora con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione delle Belle Arti di Francia, a cura della Scuola Nazionale di Belle Arti di Francia, in appena 500 esemplari, un'opera molto grande con numerosissime immagini e alcune tavole fuori testo. Tutte queste immagini, tavole fuori testo e le fotografie pure, sono monocromatiche, quindi in bianco e nero tutto il testo e le immagini del testo, in seppia le tavole. Il testo è dovuto al lavoro unitario di un architetto, Jean-Yulot, e di un archeologo, Gustave Fugère. Per la verità, l'architetto Eulot aveva già qualche anno prima visitato Selinonte e realizzato molte delle tavole e dei disegni che poi confluiranno nell'opera, in quanto faceva presso l'Accademia di Belle Arti e poi presso Villa Medici a Roma una sorta di dottorato del tempo, di lavoro di specializzazione, se vogliamo, dopo aver conseguito la laurea in Francia. Il lavoro appunto consisteva allora nel potere disegnare i monumenti e le mappe di Selinonte e inviarle in Francia. Il lavoro fu ritenuto particolarmente importante, l'archeologo Fugère ne venne a conoscenza e nacque questa pubblicazione unitaria che fu fatta in una serie di appena otto volumi da 500 copie ciascuno, molto consistenti, e si venne a realizzare un'opera che per diversi anni, quasi per un secolo direi, è stato il principale, più importante, più corposo testo dedicato all'antica città di Selinonte. In coincidenza del centenario poi il centro del catalogo della regione siciliana Accuramia ha curato la traduzione e la ristampa dell'opera, questa volta con immagini a colori. Anche questa ristampa e riedizione, se si vuole, è posseduta dalla Biblioteca Comunale di Castelvetrano. Le ricostruzioni di Yolò sono particolarmente importanti e significative perché non riproducono soltanto l'esistente nel 1910, per la verità negli anni immediatamente precedenti. Ricordiamo che in quel momento non erano state rialzate le colonne del Tempio C e tantomeno il Tempio E, cose avvenute poi nel 1925 e nel 1959 rispettivamente. L'architetto Yolò, sulla base di quanto vede, di quanto trova delle ricostruzioni effettuate in altri luoghi, di quanto aveva già disegnato i Torf, di quanto vedeva in altre colonie greche di Sicilia o in altre città dell'antica Grecia, propone anche delle ideali ricostruzioni, restauri ipotetici di quanto c'era dapprima Selinunte, di quella che doveva essere la grande città nel momento del suo splendore. Si è potuto constatare che quasi tutte le ipotesi di Yolò e poi di Fugère, che scrive il testo, con grande dovizia di particolare, con grande scienza, con grande cultura, con tantissime note, con tantissimi riferimenti, sono tutto sommato stati accettati dalla comunità scientifica successivamente perché molte delle ipotesi, molte di quanto è scritto, è stato poi recepito appunto ed accettato ed è il risultato corretto. Ovviamente tante cose poi nel corso degli anni sono cambiate, sono fatte altre scoperte, è stato fatto altro lavoro di scavi e così via. Per qualche anno poi è tornata a essere in un'altra missione francese, ci sono state le missioni tedesche, quelle della missione americana e quant'altro. Quindi ovviamente la situazione si è evoluta. Tuttavia questo testo rimane, io credo, fondamentale per la conoscenza dell'antica città e dà veramente grazie soprattutto ai disegni, alle tavole di Olò, un'immagine veramente spettacolare e grandiosa di quella che è stata una delle più importanti città del mondo antico, almeno per i due secoli e mezzo del suo splendore.